Ue a tutti ragazzi, noi siamo i Qualcose a caso, io sono Paperplay e lui è? Yum yum sere, e puoi niente mangiare Benissimo, oggi siamo su Happy Wheels, schiaccia play Play Benissimo, e siamo ritor- No, dobbiamo fare back Fail, browse levels Brose levels Esatto Vediamo che- vediamo- Horrible girl flucce 2 Ok Cos'è successo? Un tipo con un ananas I love tips with ananas English perfect Ok, vai, indietro Un chiazzo Devo, ok Uno yacht, Minecraft Con i creeper Ma che cavolo No, non ci può I don't crederci, cioè proprio Wow Qua muoi, secondo me qua muo Una gamba Gamba Guarda come li tira calci nel culo Li tira calci nel culo, Yoke Ecco sono morti Tocca a me Era talmente ovvio Ok Piano 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 Veloce Veloce Ciao anana Stronzo Che stronzo Che stronzo Che stronzo Cambiamo livello, va No, diciamo Yeah, money Mi sembra Yeah, money Mi piace Perché Viva i soldi 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 Viva i soldi Oh Mi ricordo troppo Super Mario Dico C'è veramente Ma perché Cavolo Tu sei un drogato In mezzo al nulla Con un elicottero E prendere dei money Abbiamo vinto Che cavolo Di livello Idiota Ehm Cul Cul Di Cul Di Di Cul Di Cul Di Vado con Con questo Che non mi ricordo più Chi è Chi è Eddie Secret exit Sì, mi fregherà Ma che Eddie non morire Guarda Vai Ha vinto la testa Vai Fail Oh, è la presa L'ha presa per Fione Dove la presa No No Viva Steve Ciao Matrix Boom Sono appoggiato leggermente Altro che Matrix Mi sono appoggiato leggermente Sulla mina Volevo abbracciarla Ciao Una dimostrazione di affetto Di affettato Epic Glass Break No, io sono le bravo Due Due Il due Perché il due è importante Vai Uno Uno classic Glass Break No, tu Ti ricordi quello che Boom Che era Troppo figo Non avevamo già fatti altri Di Glass Break Spreng Normal Molto lol Normal Ho un'idea dopo Ho un'idea Che qualcosa Speed Glass Break Vai Vai Nice Se sei vivo Grande Non ti sei neanche ferito niente Me l'hai gufata Stronzo Vabbè cambiamo livello Guardatelo Guardatelo Sto facendo il twerking Miley Cyrus Save the hot dog No, 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 no Dobbiamo fare 6 video dog assolutamente Io amo i hot dog Se magari riusciamo a click Cioè ci abbiamo I migliori Sappiate Che gli hot dog migliori Si prendono solo da una parte Ah, ero Babbo Natale Vabbè Sappiate che si può prendere solo da una parte Ah, quello è un hot dog È bruttissimo Veramente Comunque in realtà è un hot dog Che ha salvato te Però è morto lo stesso Oh, è salvato un hot dog Comunque sappiate che Che i veri hot dog Si mangiano solo all'Ikea Destroy the school Mi sembra la cosa migliore No, veramente Adesso che sta iniziando la scuola Distruggiamola Prima che lei possa distruggere noi It's I'm beginning to the hot school What? What? Ci sono dei pallini che esistono Aspetta, devo prendere la ricorsa E salire alle scuole Quali sono zanzare, lo sai Per un C solo Un 102, 103, 104 Morirete tutti, stronzi Soprattutto te Brutto, infame Ti ucciderò con una C E vai Dopodiché ucciderò me stesso con un vetro Guarda Oh, mamma mia Mamma mia, testa È assatanato Aiuto Mi ha matto un esorcista Mi ha matto un esorcista Guardatelo Porco testa Hai volato il tavolo Guardate Ma è ancora vivo No, che epico Sono ancora vivo È ancora vivo Guardatelo Io ho una lancia Ora trafiggera questo bel tipo No, stanno succedendo delle cose epiche Ma è sparato la lancia Una gamba volante Una gamba Oh, mamma mia Un unicorno che gli spunta un corno di vetro Oh, mamma mia Piano di sango Dov'è la testa? È un colletto scolastico C'è un colletto scolastico Guarda come Impassibile vola in aria da seduto Guardatelo È epico quel polletto No, no, no Stanno succedendo Mori folle Folletto È un folletto folle Hai ucciso Luke adesso C'è una persona in una simpatica posizione Moribba Oh, che successo? È volato in aria staccandosi un braccio Ho una persona Oh, è ricomparse la testa Ho una persona Ho una persona e non ho paura di usarla Oh, merda, merda, merda Oh, merda Ho vinto Senza testa l'ho vinto No, ma questo è stato il livello più epico mai fatto nella storia di Happy Wheels Dei qualcosi a caso Easy, è facile questo Vediamo un attimo com'è Magari non è neanche facile Easy Road, 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 boost Guardatelo 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 Mi hai fatto volare questa Ma che cazzo Vai, 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 vai Non ci posso credere Ma che cazzo Era perché era facile Vai Mamma mia Era una pignotta Si, strappiamo pure il braccio Ma dove cavolo è infilato? Ora che hai infilato questa roba nel pene posso fare... Oh, mamma mia Che brutta cosa Non faccio... No, tu hai fatto già prima il botter run Stronzo Vai Tu con Eddie Con Eddie E perché? Segue cos'è? Mamma Dove è infilato il... Mi sono... Che roba! Lei... Sei saltato via e l'hai ripreso La testa! Ma le teste oggi sono indemoniate Guardatelo Nooo! Maggi le teste sono indemoniate Cioè ma che cazzo Era epico Era epico Era epico Cosa c'è scritto qua? Adouken Adouken? Che cosa significa Adouken? Questo vuol dire Onda energetica! Facciamo Matrix Ok Vaffanculo Ma vaffanculo Uno spiedino di nonno Chuck Non mi piacciono gli spiedini Mi fanno cagare! Infilati tutti dentro il pene! Ho vinto! Ho vinto! Hai vinto! Non ho vinto! Sono morto ma ho vinto! Grazie Datemi 5 perché sono sopravvissuto 5 soldi 5 soldi Ah bello! Oh ho capito sto coso! È figo! Mi aggrapperò a Luke No a Luke muoio All'obesa Allora al culo dell'obesa ti ob... Oh che bel culo! Vai! Wow! Yuki infatti è c'ha morto come si Era... Attaccati al culo dell'obesa! Come fa a star su così l'obesa? No! 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 I c***o come noi mi balls! I c***o come noi mi balls! I c***o come noi mi balls! I c***o come è il padre di Yuki! Tu che c***o spari brutto stronzo! Che figata eh? Niente più gambe! LOL! LOL! Allora ragazzi... Come sono morti in modo epico! Infatti! Allora ragazzi... Come al solito... Se il video vi è piaciuto mettete mi piace... Iscrivetevi al nostro canale... Iscrivetevi soprattutto per le megatestate che vi ha lodate... LOL! 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 benissimo ci vediamo al prossimo video quindi we a tutti ragazzi ci vediamo